Salve a tutti carissimi e bentornati in questo nostro spazio dove quest'oggi fuori dalle nostre usuali rubriche, dai nostri usuali appuntamenti, desidero condividere con voi una riflessione appunto su quel che a mio avviso è stato il momento più drammatico, profondo per certi versi, importante del Festival di Sanremo. Sapete che non ho la tv, non guardo la tv, pertanto meno ancora il Festival, ma è praticamente impossibile evitare di intercettare ogni tanto questo flusso pervasivo e potentissimo mass mediatico, soprattutto in questi giorni era impossibile evitare di entrare in contatto con alcuni momenti del Festival di Sanremo ed è ridicolo cercare di far finta che non accada, che non ci sia una comunicazione potentissima dei mass media, tanto più se si cerca di fare un lavoro di analisi critica, filosofica, per quanto umile, soggettiva sia. Mi avete mandato un po' di tutto, ho visto passare di tutto, tanto oggi un televisore lo trovi anche dentro i bagni della stazione, quindi ho visto baci fra uomini, rapporti anali simulati, vibratori, sia oggetti sessuali per il divertimento, sfoggiati come non lo so, la spada nella roccia e vabbè, tutto ciò mi ha coinvolto zero, non meritava alcuna riflessione. Poi mi è arrivato un monologo, qualcuno di voi mi vuole veramente male, è arrivato un monologo, il titolo mi ha coinvolto, sapete ho trattato molte volte il crollo delle nascite di questo paese, la condizione della donna, la maternità, l'uomo, le relazioni, l'affetto, l'amore e questo monologo dichiara Francini, non so chi sia, ma mi ha chiamato, mi ha attratto per l'ultima parte, monologo sulla maternità immaginata. Allora lì ho detto lo voglio leggere, voglio capire di questo aspetto così importante, capite, questo tema ha un valore, i giocattolini sessuali, i due pagliacci che si baciano fra uomini, vorrei capire che cosa viene detto rispetto a ciò in una finestra così ampia, visibile e che in un certo senso ha sempre rispecchiato lo stato di coscienza del nostro paese, oggi direi che rispecchia lo stato di coscienza dell'occidente. Ora ho iniziato questo video dicendo che a mio avviso è il momento più profondo e drammatico perché, ora lo leggeremo dopo la sigla, emerge tutta la condizione di sofferenza e di dolore e di follia del nostro tempo, infatti questo passaggio è scivolato via. Non ho visto i giornaloni soffermarsi, i soliti critici che sanno scrivere 50 pagine sul vibratore e scannarsi e parlare dei due che si baciano, non ho visto un'analisi di questo monologo. Perché se la facessimo emergerebbe qualcosa di tremendamente inquietante, di psichiatrico, patologico. Proviamo a farlo qui da un punto di vista estremamente soggettivo, diciamo filosofico, esistenziale. Magari diamo il là anche a qualche psichiatra, a qualche bravo psicoterapeuta, perché secondo me se vediamo la malattia forse riusciamo anche a curarle, a liberarcene, prima che sia troppo tardi. Dopo la sigla entriamo in questo monologo, veramente mi ha lasciato una profonda tristezza, smarrimento quasi per un pomeriggio, vi assicuro che non mi capita praticamente mai. Sigla! Bene carissimi, allora lo leggo dal canale SkyTG24. Monologo di Chiara Francini sulla maternità immaginata, è andato in onda nella tarda sera, forse di venerdì se non sbaglio. Inizia così. Incinta. Quando qualcuno ti dice che è incinta e tu non lo sei mai stata, non sai mai che faccia fare. Quando qualcuno ti dice che è incinta e tu non lo sei mai stata, c'è come qualcosa che ti esplode dentro? Il desiderio di pensarlo anche tu? O magari un lavoro di consapevolezza dove ti chiarisce e dici no non mi interessa? No. Cosa esplode dentro? Un buco che ti si apre in mezzo agli organi vitali, una specie di paura stordimento, cioè praticamente una deflagrazione, una bomba a mano, esplode in mezzo agli organi vitali. E mentre accade tutto questo, tu devi festeggiare perché la gente incinta è violenta e vuole solo essere festeggiata. La gente incinta è violenta e vuole solo essere festeggiata. Ora, non so chi abbia scritto questo monologo, credo che Chiara Francini, non lo so, c'entri poco, o se c'entra comunque tutto ciò che passa attraverso il festival, è ben vagliato, è ben mirato. Ma vi rendete conto? Cosa sta immaginando? Donne incinte che ti fermano per strada e ti dicono festeggiami, festeggiami, sono incinta. Non ho mai visto tutto ciò. Anzi, oltretutto, di recente, sappiamo, l'abbiamo letto venerdì scorso, l'Italia sta rischiando praticamente l'istinzione di non esistere più. Il numero di morti, il numero di persone anziane è troppo alto rispetto ai nuovi nati. In giro vediamo solo persone della mia età, anche più giovani, un po' più avanti. Siamo agli sgoccioli della possibilità di dare ancora vita con i cani. Ci sono solo cani. Se ne è accorto anche Bergoglio che non mi sembra proprio che sia lì dalla mattina alla sera a pensare al futuro delle masse italiane, europee. E quindi chi sono queste donne incinte violente che vogliono solo essere festeggiate? Devono essere delle tue amiche. Donne amiche. E allora lì è un problema di relazione, perché tu hai delle amicizie, persone con le quali non puoi parlare e parlare del tuo buco che si apre in mezzo dagli organi vitali. Questa angoscia descritta in questo modo. Ah, è un'amica. Ha avuto un figlio, forse anche lei ha attraversato questa cosa, o forse no. E ti racconta come ha vissuto, come ha affrontato questo passaggio importante. No, qua sentiamo l'isolamento tremendo. E sentiamo anche questa percezione di paura forte. Andiamo avanti. Dice, e non c'è spazio per il tuo dolore, per la tua solitudine. Qua ribatte ancora il concetto. E dice, devi festeggiare. Mi ricorda, vi ricordate quell'episodio drammatico del ragazzo che ha ammazzato un altro ragazzo per il semplice motivo che rideva. Abbiamo la rabbia per la felicità che è diversa dal nostro quadro di felicità. O forse quello che noi stiamo facendo, il sentiero che noi stiamo percorrendo, non ci rende felici. Forse stiamo seguendo delle tracce tanto provenienti dall'esterno. C'è tutta una recita. I due si baciano, l'altro c'ha il vibratore, l'altro... Ma sono felici? Cioè, mi chiedo Fedez a farsi infilar la lingua in bocca. Era felice. Vabbè, lui ha i suoi soldi, la sua moglie, i suoi figli... Ma se poi noi imbocchiamo una strada che viene solo dall'esterno, poi forse iniziamo a vedere non la donna incinta felice, ma il felice, il soggetto felice come un nemico. Ed ecco che non c'è spazio per il suo dolore, dice, per la sua solitudine. No, tu sei isolata dentro l'insoddisfazione, perché la solitudine è uno stato di non limite, il solo dall'assoluto, il non limitato. E l'abbiamo analizzato molte volte in questo nostro spazio, nei nostri incontri, nei nostri 15 anni di lavoro. L'uccello della vita si muove grazie a due ali. Una è la solitudine e l'altra è l'incontro profondo. Noi possiamo incontrare l'altro solo se all'interno siamo soli, non limitati, non condizionati. Allora così davvero incontriamo l'altro e possiamo parlargli. Sai, ho attraversato anch'io grandi paure prima di decidermi. Ho provato anch'io tante volte prima di riuscire ad avere un figlio. Sono ancora colma di paura. Tu lo desideri, non lo desideri? Allora l'amicizia ci accompagna e ci chiariamo lungo la via. E poi, scusatemi, ma in tutto questo monologo non c'è l'uomo, anzi ci saranno dei passaggi di odio verso l'uomo eterosessuale. E quindi credo che si crei sempre più un isolamento, non una solitudine. Allora vi ripeto questo passaggio. E non c'è spazio per il tuo dolore, per la tua solitudine. Tu devi festeggiare, qua fa adesso una metafora agghiacciante, come l'albero di Natale che tengo acceso tutto l'anno in salotto. Un albero di Natale assolutamente insensato che continua ad accendere le sue lucine anche a luglio fuori tempo massimo. Una festa continua senza nessuna natività. Ora non so l'allegoria che valore abbia, che senso abbia. Se tieni un albero di Natale tutto l'anno fatti due o tre domande, per quello dico anche, ci sono poi delle sfumature che dovrebbero essere allegoriche o poetiche che sono agghiaccianti. Agghiaccianti, non abbiamo più il senso del bello e anche della scrittura, della metafora. Una festa continua senza nessuna natività. Perché tu devi festeggiare l'altro, ma da te nulla è nato. Ho capito. Spegni l'albero o fa Natale, deciditi. E poi va avanti e dice, e io ho festeggiato. Ma Lucia, ma è bellissimo! E poi non saper più cosa dire. Esattamente, proprio mostra quel che ho appena detto. Ma Lucia è una tua amica? Ma hai una madre? Un compagno? L'amore passa? No, dopo infatti lo dice. Era solo l'inizio perché di lì a poco mi sembrava che tutti intorno a me avessero avuto, stessero avendo, avrebbero avuto un figlio, passeggini, passeggini ovunque. Un esercito di donne con i capelli corti e uomini stempiati con la panza che spingono passeggini con dentro neonati mostruosi e pieni d'amore. Alla fine ci mette un colpo, pieni d'amore, perché sennò era troppo, troppo. C'è proprio il disprezzo totale anche per il nascito, per il nato era troppo. Allora mostruosi ma pieni d'amore. I uomini, le donne e i capelli corti. Può essere molto affascinante. L'uomo no, l'uomo è stempiato con la panza. Ci ha partorito lui e non la donna. E soprattutto, come ho detto prima, in giro ci sono solo cani, tra un po' giraranno anche con delle scimmiette ammaestrate, troveremo lo zoo, pappagalli, oranghi, di tutto, tranne che bambini. Ma lei ha questa immagine. Cioè non vede una società che è cadavere, che non ha più figli. I parchi sono vuoti. No, viene colta da tutti, tutti, tutti sono, tutte sono gravide, tutti stanno avendo un figlio. quando in realtà quella che ha un figlio è, io ho, scusatemi, ma forse sto solo aggiungendo una visione animata, ma io vedo donne sole con un figlio spaventate dal mondo che hanno intorno perché è stato un mondo agghiacciante. Non c'è un riferimento, mai sentito, non c'è stato un riferimento alla pandemia, alla paura, al sistema massmediatico che ci ha terrorizzati e continua ora con la guerra. No, ha parlato l'amico Vlodomiro, quello con la maglietta verde, perché è tutto meraviglioso. E io vedo invece donne, papà, sono pochi in mezzo ad un mondo isolato, senza più figli e sono spaventati, si sentono isolati. Ma lei vede il contrario. Cioè quella che è una massa si sente discriminata. Coloro che ormai sono la maggioranza hanno il potere e si sentono discriminati. Incredibile ragazzi, è persecuzione questa, perché state facendo una vita di merda. È quello il motivo, non stai facendo ciò che senti profondamente. E infatti, scusate, ma poi c'è un passaggino che forse lo dice in maniera chiarissima. Ma ormai le cose ce le dicono in faccia, ce le diciamo, ma qualcosa si è rotto all'interno, non vengono registrate, è come se non arrivassero al cuore. Cioè ti dicono che fanno la guerra per la pace. È chiaro che violenza è guerra. Non ti arriva però il concetto folle al cuore, che il cuore ti sveglierebbe e direbbe, ma che cazzata è questa? Non arriva. Ti hanno terrorizzato per tre anni, violentemente, immotivatamente, perché un livello tale di terrore non faceva bene a nessuno. Non arriva a risvegliare la consapevolezza. Sto esagerando. Sentite cosa dice dopo. Un esercito di donne con i capelli corti. Vabbè, la donna rimane affascinante, meglio. Per gli uomini affascinanti c'è più spazio. Gli uomini poi sono tutti con la panza e tutti... Vabbè. E io, io che continuavo a fare le mie cose sempre meglio, sempre guadagnandoci di più, con sempre più persone che mi guardavano e mi amavano. Qua usa il passato. È guardata, è amata. Se sei amata, parla. Parla di quella voragine che ti si apre. Parla. Con le amiche parla. Non è un campo di guerra. E poi, qua viene messo addirittura da questo giornale, da SkyTG, in nero. E poi a un certo punto io mi sono accorta che il tempo passava e che se non... Forse l'ha letto con enfasi. che se non mi sbrigavo io, forse un figlio non l'avrei mai avuto. E se anche mi sbrigavo poi, non era mica detto. Perché anche quando ti decidi che è il momento giusto, poi magari il corpo ti fa il dito medio. Ora, questa è una donna sui 40 anni, se ha il dubbio del corpo, eccetera. E parla come le ragazzine di 12. Il corpo ti fa il dito medio. Perché siamo giovanili noi. No, non sei giovanile. Sei adulta. Allora rimani col dubbio di aver sbagliato, di aver aspettato troppo, di essere una fallita. Ecco, oggi tutto è riuscire o fallire. Non è sentire. No. Successo. Poi c'è un piccolo problema. I figli da cosa nascevano una volta? O dal dovere. Bisogna farne dovere. Una sorta di ipnosi. Oppure dalla passione. Passione sessuale, desiderio. Deve essercene poco dire. Oppure da un progetto sentito. Dalla relazione che dal due desidera generare l'uno. Bellissima questa cosa. Qua c'è l'isolamento. Non c'è mai il discorso dell'altro. Il compagno, l'uomo, viene visto un secondo come uno stempiato con la panza che praticamente il marito di quella lì, il compagno, avendo avuto un figlio, è divenuto un... quindi ti passa anche un po' la voglia. A noi donne il senso di colpa ci rimbomba dentro come un eco. Lo poppiamo fin dal primo vagito. vagito. Ecco qua abbiamo anche... e senza ruttino. Abbiamo anche il colpetto poetico radical. Che cacchio vuol dire? Lo poppiamo fin dal primo vagito. Il senso di colpa? Ok. Va bene. La donna ha il senso di colpa. Questo era un monologo di donne per le donne. Peccato che i figli si fanno in due, anche se si sta tentando di non farli più in uomo o donna. Ok. Ma lo capisci che non c'è proprio un minimo riferimento alla sofferenza che può avere anche un uomo. Un uomo che non avrà mai un figlio, una figlia? No. Non siamo più insieme. Non siamo più appunto le ali di un medesimo volo. No. No. La parte più difficile di fare un figlio è immaginarlo. Immaginarsi come sarà. Ecco, se vai nel futuro, non sei nel qui ed ora, non senti l'affetto, l'amore, la sessualità, non senti niente. Scusatemi, vorrebbe una battuta ma dopo finirei trash pure io. Non senti niente. La parte più difficile di fare un figlio, essere nel qui ed ora, è smettere di immaginare, non immaginarselo corretto. Infatti dopo lo dice, perché nel suo stato di follia ha dei momenti di comprensione, di risveglio. E se non mi sta simpatico, dice? E se non mi piace? Come il gelato. Il gusto malaga? Non mi piace. È un figlio. Non è proprio la stessa. E se non mi sta simpatico? E se poi non condivido niente di quel che fa nella sua vita? Sarebbe un camminare assieme ed è un percorso. Tu con un ruolo educativo generitoriale, lui con un gran desiderio di di divenire uomo, adulto, donna, piena, eccetera. Quindi se non condividiamo niente e tutti i giorni li condividete, forse al festival potevamo lanciare un senso di speranza ad una società che si sta estinguendo. Sentite che botta di speranza che vi arriva? E se viene troppo diverso da me? Nel mio caso certo che verrà diverso da me. Sì, perché se continui così lo fa un'altra. Ma come faccio con te, bambino? Ancora non ti conosco, ancora non so nemmeno se nasci, se ci riesco a farti nascere. Che già non ci capiamo. Perché devi capire te stessa. Essere figlio di una madre come Metica userà solo dei problemi. Qua un momento di lucidità. Sì. Se sarai... E qua c'è un riferimento al maschio. Sentite il livello. L'uomo, il maschio, l'etero. Sentite il livello. Se sarai maschio io so e quasi spero che sarai gay e tamerò così tanto. L'ho riletta cinque volte. Se sarai maschio io so e virgola quasi spero virgola che sarai gay. Ma io so che sarai gay o quasi spero che sarai gay? E poi perché? Perché? Cioè hai un figlio maschio e speri... Ho capito che sei al festival, si bassano tra uomini, simulano rapporti anali, ma... Ma a che punto siamo arrivati? Se sarai maschio... Sarai mio figlio io spero che sarai felice, che sarai libero. No, abbiamo il sesso lì in testa. Fin lì arriva il nostro concetto di felicità, di libertà e oltretutto se nasce maschio io spero che sia gay. Non so se vi rendete conto. Dopo capisci perché in tutto il monologo non c'è la presenza del compagno. È follia allo stato puro questo monologo. E dopo chiarisce ancora meglio la follia. Sentite qui. Però forse preferirei non lo fossi, gay, perché sarà più difficile, la vita intende, e io vorrei che per te fosse facile. Quindi ti vorrei gay perché saresti una persona migliore, un figlio maschio gay è migliore di un etero. Ragazzi cazzo lo dice, se sarai maschio io so e quasi spero che sarai gay, quasi spero, ma prima lo sa e poi dice spero che sono in contraddizione. Il sapere e la speranza sono due livelli diversi. Ragazza, comunque o lo sa che sarà gay o spera che sarà gay e lo amerà tanto. Sei etero. Cazzo, mi è nato etero, che sfiga. Però forse preferirei non lo fossi, ma non dice etero, perché è una parola che nemmeno va detta, perché sarà più difficile, chiaramente, essendo in un mondo che ti discrimina. E infatti, e io vorrei che per te fosse facile. Però l'etero ce l'ha facile, ma è un coglione. Cioè questo passaggio, ditemi voi se mi sbaglio, ma se lo leggi da destra a sinistra, sopra o sotto, in diagonale, questo sta intendendo. E chiude ovviamente dicendo, per favore non essere stupido. Cioè se proprio mi nasci etero, ti prego non essere etero davvero, che sono stupidi. E lei probabilmente non è etero. Cioè lei è fluida, non l'ha detto, non lo dice, però... Cioè, questo è un... qua si può fare un trattato di psichiatria. E poi a un certo punto non sa più come uscire dal casino in cui si è infilata dei gay, gli etero, eccetera. E allora, vieni su brillante, vienimi... scusate, usa, vienimi su brillante, con la battuta pronta. Non sapeva più come tirarsi fuori dal casino gay, etero. Vienimi su brillante, dai, con la battuta pronta. Perché a me piacciono gli uomini che fanno ridere. Sì, sì, infatti, facciamo sempre più ridere, infatti. E qua credo che più in basso di quel che vi leggerò adesso sarà difficile per il genere umano andare. Dice, odia, odia, odia ciò che si deve odiare, perché è con quello che si fa tutto. Non è vero che si fa con l'amore. Sì, con l'amore si fanno delle cose, ma il grosso si fa con quell'odio lì. Con quell'odio lì. E ora lì. Però lo chiarisce. profondo. Cioè, non è nemmeno un odio. Profondo, viscerale, instancabile. L'odio instancabile. Non essere, ti prego, una di quelle creature indifese troppo buone. Cioè, no? Sì, forte, integro, libero dai condizionamenti, capace di giustizia, amore. L'amore è potente, è forte. No! È l'odio che è forte. Infatti noi odiamo così tanto che facciamo la pace con le armi, cazzo. E non ci rendiamo neanche conto che è follia. Facciamo parlare il capo di una nazione in guerra per procura nella nostra casa dell'arte. Cazzo. Perché poi dovrei cercare di difenderti tutto il tempo, dice. Guardate che il passaggio sull'odio è allucinante. Disintegrati completamente i Vangeli, il Dammapada del Buddha, la non-violenza del Mahatma Gandhi, 2500 anni di filosofia, Socrate, Platone, Aristotele, il fenomeno logico dello spirito di Hegel, Kant, tutto! E certo, oggi non vale... millenni di riflessioni, di attenzione all'animo umano che ci hanno detto che è generare amore, è divenire amore che ci può salvare, sono stati buttati nel bidone dell'immondizia perché, cose vecchie, noi siamo nel progresso, il nuovo. Eccolo qua, il nuovo. Odia, amore mio, odia! In un modo profondo, viscerale, instancabile. Non essere, ti prego, una di quelle creature indifese troppo buone. Qua confonde la bontà, che è una potenza dell'animo, con l'essere dei deboli e degli indifesi. Quindi lo sta invitando ad essere un bullo, praticamente. Però non etero, perché il bullo etero non ci piace. Poi dice, e c'è il cercare di difenderti tutto il tempo, e c'è il rischio che tu venga su meno capace di guardare e di camminare. Io vorrei fare come mia madre che non mi ha mai preso nel suo lettone. Piangerai nel tuo letto. Spero di avere la forza... Vabbè, qua scivoliamo nel banale. Spero di avere la forza di lasciarti piangere. Non devo essere debole. Ma lo vedi come parlo? Ecco, qua ha un risveglio, ha un dubbio. Sembra che tutto dipenda da me. Sì, beh, non c'è neanche un compagno, non c'è relazione, le amiche non sono amiche, sono tutti antagonisti. Come se tu non esistessi già da prima di esistere. Fermi, eh. Qua c'è il momento filosofone. Sembra che tu... che tutto dipenda da me. Come se tu non esistessi già da prima di esistere. Vabbè, ne parleremo in un altro momento. Forse anche lei ne parlerà in un altro momento con se stessa. Io da qualche parte penso di essere una donna di merda perché non so cucinare, perché non mi sono sposata e perché non ho avuto figli. Razionalmente so che va bene così, ma da qualche parte dentro di me c'è questa voce che esiste e io alla fine penso che abbia ragione lei che io sia sbagliata. E io già lo so, bambino. Tu mi porterai via tutta la creatività, la luce, resterai solo tu al centro della scena. Questa è la proiezione del suo essere, solo lei al centro. E io sarò una semplice comparsa. Cioè non è la generazione di te stesso, c'è la fusione. No, no, no. Ti scalza dalla scena. Non sei più su Instagram. Cazzo, non sei più su Instagram. Io sarò una semplice comparsa e poi diventerò grande. Come diventerò grande? Stai parlando che ci avrai 40 anni e diventerai grande. Quando è che diventeremo grandi? Questo dialogo non lo fa una 25enne. Questo monologo. Sei già grande, ma non ci svegliamo più. Non siamo nella realtà. Allora dice e poi diventerò grande, poi vecchia e non potrò più far finta che il tempo non stia passando perché ci sarai sempre tu lì a ricordarmi in ogni momento che la mia gioventù è finita. Non è che il figlio ti fa ancora vivere la gioventù perché vive in lui. La tua stessa gioventù la rivedi. No, ti ricorda che sei vecchio. Guardate che in questo monologo c'è la spiegazione almeno di molti aspetti del perché la nostra società si sta estinguendo e Dio, grazie, la natura non ha solo dei ritmi diciamo biologici della specie, ma c'è anche un livello di coscienza. Quando la coscienza non genera più, non fiorisce, si estingue. Serve a conservare la vita. Perché se continuiamo così, noi per per persistere noi vorremmo eliminare il nuovo. Le nuove generazioni non devono nascere perché dobbiamo restare noi. E giovani sempre col viagra, le pastiglie, il coso, il sex toy. Sì. E penso che mi renderai così felice. Adesso sei resa conto di aver detto una marea di cazzate, quindi dice però penso che mi rende... no, non è però. E penso che mi renderai così felice che poi non potrai mai rendermi... ah no, scusate, non me la ricordavo. No, no, persiste nella follia. Sentite qui. E poi... e penso che mi renderai così felice che poi non potrai mai rendermi davvero così felice perché è così che funzionano le cose della vita. Non sono mai come te le eri aspettate. Eh sì, il regalo a Natale lo apri, non è mai quello che t'aspettavi. E io ti aspetto e ti desidero così tanto che sarai per forza una delusione. Sta descrivendo perfettamente questa società che è tutta nella testa. È tutta nel mio proiettario. Cioè è bellissimo, è utile. Grazie, hai fatto un grandissimo lavoro. Hai una sintesi perfetta della follia. E infatti dice... adesso ho un risveglio. Ma come parlo? Ma che madre sono? Non sono una madre intanto. Brava, brava. Non sono una madre. Da dove mi viene tutto questo? Quanto mi è costato diventare come sono? Quanto costerà a te? E in mezzo a tutto questo bisogno di arrivare, in mezzo a tutta questa rabbia, questo amore, io ora non so dove metterti. Io non sento questo amore. La rabbia la sento. L'amore immaginato, forse. Non sai dove metterlo. O forse sei proprio tu che non... adesso dà la responsabilità all'inesistente. O forse sei proprio tu che non vuoi venire da me perché credi che io mi sia dimenticata di te, che io mi sia dimenticata della vita. Questa è la sua stessa coscienza che le sta dicendo. Guarda che ti sei dimenticata della vita. Sì, in un certo senso è vero questo passaggio. Non nel fantasma del bambino, ma la vita che è in lei, che in un certo senso è il figlio che può nascere, le dice ti sei dimenticata della vita. E dice perché avevo troppo da fare, ma io volevo solo essere brava. Io volevo solo essere preparata, efficace, efficiente. Sia adatto, adattati. È potentissimo questo passaggio, questo monologo è devastante. Io volevo che tu fossi fiero di me. Ancora il me, l'io. Io. Se generi devi essere vuoto e devi essersi per l'altro, quindi tu devi aver trasceso te stesso. Se non muori a te stesso, non c'è spazio per nuova vita. Anche se ancora non ci sei. Io volevo che tu fossi fiero di me, anche se ancora non ci sei. Quindi è tutto un dialogo nell'inesistente, perché nasci e ogni giorno cerco che tu sia fiero di me nel presente, dove la vita esiste. No, io volevo che tu fossi nel passato fiero di me, anche se tu non ci sei. Forse perché ci sei sempre stato. Chiude con questa banalità sciocchiante. Forse perché ci sei sempre stato. Signori miei, io qui mi fermo, credo di averne dette. Spunti di riflessione, soggettivi. Io l'ho letta così, l'ho sentita così. Vi giuro, sono stato male una giornata dopo questa lettura, perché secondo me rivela tantissimo del nostro tempo. Poi vorrei ricordare che ci sono persone che tutti i giorni vanno a lavoro, non sono là tra i lustrini eccetera, cercano di portare avanti ancora una vita che è fatta di fatiche, di incontri, di parola, di dubbi. Non lo so, non so quanto tutto ciò poi rappresenti un'altra grande fetta di persone. Temo, ahimè, che però molti ne siano influenzati e molti da questo tipo di ragionamenti non so cosa traggono. Noi adesso abbiamo fatto un'analisi critica, ma aiuta tutto ciò? È di sprone? Ti porta a contatto con la fiducia, la speranza, con l'uscire dalle tenebre che stiamo attraversando da anni ormai, da tre anni, adesso la guerra, adesso continua? A cosa serviva alla fine se non darmi un trattato utile alla psichiatria, alla psicopatologia, ad analisi filosofico esistenziali? Sì, però eri a Sanremo di fronte a milioni di persone. Questo Sanremo vi ha dato un senso di bellezza e speranza nel futuro? L'ha dato? Io dico, ok, mettiamo che l'abbiano visto milioni di persone, perché continuano a dire visto, visto, vi ha dato un senso di bellezza, di speranza nel futuro? Chiedetevelo onestamente, parlate al cuore, non alla testa, vedete che la testa è andata fuori di testa. Un carissimo abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!